La nostra vocazione come territorio è incentrata soprattutto su tre aspetti. Quello della promozione e sviluppo del territorio, la valorizzazione delle nostre aree sia artistiche che ambientali, quella di sviluppo industriale, della fila in morse che si sta insediando, quella dello sviluppo commerciale con grandi aree di redefinizione e di ampliamento commerciale. Per sviluppare ulteriormente il nostro territorio noi servono infrastrutture di aree che sono in definizione e anche in applicazione, come i caselli autostradali, Balsamoggia per quanto riguarda la fila in morse e tutta l'area industriale, il casello di Borgo Nuovo per quanto riguarda tutta la vallata del Reno, la Porrettana che sta per essere anche questa avviata per il nodo viario di Caselecchio. Il traffico è un problema da risolvere sostanzialmente, in più il trasporto pubblico che è necessario per aiutare la prospettiva e anche la rete fra i territori, quindi la rete con la città metropolitana e con Bologna in particolare. Il piano strategico metropolitano per il nostro territorio rappresenta la possibilità di ragionare sulle prospettive strategiche, cogliere l'occasione per riaggiornare delle progettualità che sono presenti, sono molto forti e questo ci aiuta moltissimo per fare mente locale, soprattutto con la rete delle imprese, delle associazioni, del mondo in generale sociale e della nostra realtà. Grazie a tutti.